Nei prossimi video considereremo rotazioni intorno ad assi diversi rispetto a quelli coordinati x e y, come abbiamo fatto fino adesso, per quanto riguarda il calcolo di volumi mediante integrazione. Vediamo il primo esercizio. Questo ci dice di considerare la regione finita di piano limitata dai grafici delle funzioni f di x, quindi scriviamo le funzioni f di x uguale a x quadro più 2, quindi una parabola, e g di x uguale 4 meno x quadro, quindi anche questa una parabola, 4 meno x quadro. Determinare il volume del solido generato dalla rotazione di questa regione intorno alla retta di equazione y uguale 2, quindi la retta attorno a cui ruota tale regione di piano è y uguale meno 2. Ora cerchiamo di disegnarci le parabole. Le parabole hanno entrambe il vertice sull'asse y. Possiamo calcolarci quindi il vertice. Se diamo, per quanto riguarda la prima, il valore 0 a x, otteniamo un y uguale 2, quindi il vertice ha coordinate 0,2. Per la seconda abbiamo, se diamo x uguale 0, abbiamo y uguale 4. La prima ha concavità rivolta verso l'alto, la seconda concavità rivolta verso il basso, perché il coefficiente del termine di secondo grado è negativo. Per quanto riguarda la seconda, se facciamo y uguale 0, cioè g di x uguale 0, otteniamo x uguale più meno 2, quindi taglierà l'asse delle x in più meno 2. Più abbiamo informazioni, meglio riusciamo a disegnarle. Ulteriori informazioni, che ci serviranno poi anche per impostare l'integrale, è quella dell'intersezione tra le due curve. Quindi questo significa mettere a sistema, per calcolare tra le intersezioni, le equazioni delle due parabole. Quindi f di x uguale x quadro più 2 è g di x uguale 4 meno x al quadrato. Questo significa scrivere x quadro più 2 uguale 4 meno x quadro, cioè eguagliamo i secondi membri. Portiamo tutto a primo membro e otteniamo 2x quadro più 2 meno 4 meno 2 uguale 0. Possiamo dividere entrambe i membri per 2 e otteniamo x quadro meno 1 uguale 0. E sappiamo che questo significa che i punti di intersezione, li scrivo qua a sinistra, sono x uguale più e meno 1. Cioè le due parabole si incontrano nei punti di ascissa più meno 1. Cerchiamo di farci un disegno perché, come abbiamo detto questa volta, non abbiamo una rotazione intorno ad uno degli assi, ma abbiamo una rotazione intorno ad un asse parallelo all'asse delle x, cioè y uguale meno 2. E quest'asse è sotto precisamente l'asse delle x. Beh, possiamo già disegnarcelo. Questo è l'asse di rotazione y uguale meno 2. Ora disegniamo le parabole, facciamole chiaramente in modo qualitativo. questa è la g di x. Questa è la f di x. L'area che ruota intorno all'asse y uguale meno 2 è questa che ho segnato in rosso e i punti di intersezione hanno ascisse 1 e meno 1. Ora, se indichiamo con r grande tale distanza, quella relativa alla g di x rispetto all'asse y e con r piccolo, sempre la distanza, questa volta di f di x dall'asse di rotazione meno 2, possiamo scrivere che il volume è dato da l'integrale tra a e b di s di x in dove s di x è uguale a pi greco r quadro maiuscolo meno r quadro minuscolo dove r quadro maiuscolo è uguale a g di x più 2 perché dobbiamo tenere conto di questa distanza qua che vale 2 e r minuscolo è f di x più 2 per lo stesso motivo. Andiamo a sostituire e calcoliamo s di x. Quindi s di x è uguale a pi greco g di x a cui possiamo sostituire 4 meno x quadro e quindi più 2 al quadrato meno r cioè f di x e quindi x quadro più 2 ancora più 2 al quadrato. Cioè, e mettiamoci anche una parentesi quadra in quanto è tutto moltiplicato per pi greco. Quindi abbiamo pi greco che moltiplica 4 più 2 6 quindi abbiamo un 6 meno x quadro per la primo termine e poi ancora al quadrato e poi un meno x quadro più 4 al quadrato per il secondo termine. Tutto moltiplicato per pi greco. Possiamo ora scrivere l'integrale. Ricordiamoci che gli estremi di integrazione calcolati erano i punti di intersezione tra le due curve quindi meno 1 e 1 quindi qui il volume è uguale. Il pi greco lo mettiamo fuori dall'integrale visto che è una costante e scriviamo 6 meno x quadro al quadrato meno x quadro più 4 al quadrato tutto in dx uguale. Ora vista la simmetria possiamo integrare tra 0 e 1 cioè torniamo alla figura. Vista la simmetria che stiamo integrando tra meno 1 e 1 invece di integrare tra meno 1 e 1 possiamo integrare tra 0 e 1 e naturalmente raddoppiare il valore del volume e quindi possiamo scrivere v uguale a 2 pi greco integrale tra 0 e 1 di ora svolgiamo i calcoli quindi il quadrato del binomio è 36 meno 12 x quadro doppio prodotto più x alla quarta qui svolgiamo il quadrato e cambiamo i segni ad ogni termine quindi abbiamo x alla quarta meno poi abbiamo ancora meno 2 per 4 8 x quadro doppio prodotto e poi abbiamo un meno 4 per 4 16 in dx uguale. Semplifichiamo e abbiamo x alla quarta meno x alla quarta che fa 0 e ancora 36 meno 16 20 e meno 12 x quadro meno 8 x quadro fa 20 x quadro quindi 2 pi greco integrale tra 0 e 1 di 20 meno 20 x quadro in dx. Possiamo scrivere le primitive di entrambe i termini raccogliamo anche possiamo a fattor comune un 20 e quindi lo moltiplichiamo per 2 pi greco e abbiamo per quanto riguarda il primo termine che è rimasto 1 abbiamo x per quanto riguarda il secondo termine che è rimasto x quadro abbiamo un terzo x al cubo da calcolare tra 0 e 1 uguale quindi 40 pi greco che moltiplica sostituiamo 1 otteniamo 1 meno un terzo se sostituiamo 0 otteniamo 0 30 rambe i termini quindi questo è il risultato dell'integrale 1 meno un terzo è due terzi due terzi per 40 e 80 terzi pi greco è il risultato del volume richiesto dal problema secondo esercizio considerare il trapezoide limitato dal grafico della funzione y uguale 4 fratto x quindi abbiamo un iperbole y uguale 4 fratto x e dall'asse x per x compreso tra 1 e 4 quindi l'altro limite è y uguale a 0 l'asse x con x compreso tra 1 e 4 determinare il volume del soldo ottenuto dalla rotazione del trapezoide intorno alla retta y uguale meno 1 quindi l'asse di rotazione è y uguale meno 1 bene andiamo a farci una figura qui la possiamo fare subito e abbastanza agivolmente ci troviamo tra 1 e 4 quindi primo quadrante questa è l'iperbole se prendiamo 1 qua abbiamo 4 qua e quindi l'area che ruota è questa e l'asse intorno a cui ruota è y uguale meno 1 facciamo anche un po' in basso non lo facciamo in scala questo è l'asse di rotazione cioè y uguale meno 1 i raggi che ci serviranno e che per quanto riguarda l'iperbole questo che lo possiamo indicare con r maiuscolo e per quanto riguarda y uguale 0 cioè l'asse delle x questo e lo possiamo indicare con r minuscolo questa y uguale 4 fratto x ora il volume è uguale uguale a integrale tra a e b e questi saranno 1 e 4 di s di x in dx andiamo a scriverci s di x s di x è uguale a pi greco che moltiplica r al quadrato meno pi greco che moltiplica r minuscolo al quadrato r maiuscolo è f di x più 1 quindi 4 fratto x più 1 dove 1 è la distanza dell'asse di rotazione dall'asse delle x e r piccolo è uguale visto che stiamo considerando l'asse delle x e che la sua equazione è 0 scriviamolo è 0 più 1 cioè la distanza dell'asse delle x dall'asse di rotazione quindi ora sostituiamo i valori e calcoliamo s di x questo è uguale raccogliamo a fattore comune un pi greco e abbiamo 4 fratto x più 1 al quadrato meno 1 al quadrato tutto che moltiplica pi greco scriviamo l'integrale quindi il volume è uguale pi greco fuori dall'integrale integrale tra 1 e 4 di 4 fratto x più 1 al quadrato meno 1 al quadrato in dx ora dobbiamo quadrare il primo termine e quindi il volume è uguale a pi greco che moltiplica l'integrale tra 1 e 4 di quadrato del primo termine è 16 fratto x quadro il doppio prodotto è 2 volte 4 fratto x per 1 e quindi 8 x quadrato del secondo è più 1 poi abbiamo meno 1 al quadrato è 1 con il meno davanti naturalmente tutto in dx quindi abbiamo 1 e meno 1 fa 0 e otteniamo portando fuori un 8 dall'integrale possiamo raccoglierlo a fattore comune tra il primo e il secondo termine abbiamo 8 pi greco che moltiplica l'integrale tra 1 e 4 di 2 fratto x al quadrato più 1 fratto x in dx e questo è uguale a 8 pi greco l'integrale di 1 fratto x quadro è meno 1 fratto x abbiamo anche un 2 quindi meno 2 fratto x l'integrale di 1 fratto x è il logaritmo naturale di x lo scriviamo con il modulo e questo dobbiamo integrarlo tra 1 e 4 non ci sarebbe stato bisogno del modulo perché abbiamo entrambe i valori positivi però ricordiamo ce l'ho va messo per pregraduzione 8 pi greco sostituiamo 4 e abbiamo meno 2 fratto 4 più logaritmo di 4 e poi dobbiamo sottrarre a questo la stessa quantità sostituendo 1 e quindi abbiamo meno che fa più 2 fratto 1 che è 2 e meno logaritmo di 1 che è 0 tutto moltiplicato per 8 pi greco e questo ancora semplifichiamo l'1 e il 4 e otteniamo un mezzo poi abbiamo 2 meno un mezzo che è 3 mezzi e quindi 8 pi greco che moltiplica 3 mezzi e poi abbiamo il logaritmo di 4 che possiamo scrivere come logaritmo di 2 al quadrato e portare l'esponente per una nota proprietà dei logaritmi fuori dal logaritmo e quindi abbiamo 8 pi greco che moltiplica 3 mezzi più 2 volte il logaritmo naturale di 2 ora possiamo per semplificare il 2 che c'è dentro la parentesi scrivere 4 pi greco e moltiplicare un 2 che appunto proviene dall'8 dentro la parentesi e quindi 3 più 4 logaritmo di 2 e questo è il valore del volume richiesto dal problema terzo esercizio considerare il trapezoide limitato dal grafico della funzione y uguale e alla meno x e dall'asse x quindi y uguale 0 per x compreso tra meno 1 e 0 quindi x compreso tra meno 1 e 0 determinare il volume del solido ottenuto dalla rotazione del trapezoide intorno alla retta di equazione y uguale meno 2 quindi la retta di rotazione è y uguale meno 2 anche qui possiamo partire dal disegno della funzione visto che la funzione è elementare è y uguale e alla meno x che è questa questo è y, questo è x e questo è y uguale e alla meno x i limiti di integrazione sono meno 1 e 0 quindi siamo tra meno 1 e l'origine quella che vado a segnare in rosso è l'area che ruota e l'asse di rotazione è y uguale meno 2 quindi possiamo anche non rispettare la scala disegnare l'asse di rotazione che è y uguale meno 2 andiamo a segnarci anche r maiuscolo ed r minuscolo come abbiamo fatto per i casi precedenti r maiuscolo è la funzione più 2 quindi questo è r maiuscolo r minuscolo è sempre la funzione ma in questo caso è l'asse delle x quindi y uguale 0 più la distanza dall'asse di rotazione che è 2 ancora quindi l'integrale che ci dà il volume è integrale tra a e b di s di x in dx scriviamo s di x s di x è uguale a pi greco che moltiplica, raccogliamo a fattor comune il pi greco r maiuscolo al quadrato meno r minuscolo al quadrato dove r maiuscolo è uguale a e alla meno x più 2 e r minuscolo è uguale a 2 scriviamo anche 0 più 2 in modo da essere più chiari possibile quindi s di x è uguale a pi greco che moltiplica e alla meno x più 2 al quadrato meno 2 al quadrato ora i limiti di integrazione sono meno 1 e 0 e quindi possiamo scrivere l'integrale quindi il volume sarà dato dall'integrale tra meno 1 e 0 di e alla meno x più 2 al quadrato meno 4 in dx uguale ora facciamo il quadrato del binomio e abbiamo qui ho dimenticato un pi greco che possiamo scrivere fuori dall'integrale quindi pi greco integrale tra meno 1 e 0 di e alla meno x al quadrato e alla meno 2x ricordiamo che fare al quadrato significa moltiplicare gli esponenti poi abbiamo il doppio prodotto tra il primo e il secondo termine che è 4 e alla meno x e poi abbiamo il quadrato del secondo termine che è 4 meno 4 in dx ora 4 meno 4 fa 0 e quindi l'integrale è pi greco integrale tra meno 1 e 0 di e alla meno 2x più 4 e alla meno x in dx uguale non mi soffermo più sulla spiegazione delle primitive perché queste dovrebbero essere chiare oramai quindi abbiamo pi greco che moltiplica meno un mezzo e alla meno 2x qui abbiamo esponenziali quindi sono facilmente integrabili e poi abbiamo meno e alla meno x la primitiva di e alla meno x per 4 e quindi meno 4 e alla meno x da integrare tra meno 1 e 0 uguale sostituiamo gli estremi di integrazione e abbiamo meno un mezzo e alla 0 meno 4 e alla 0 meno e quindi sono tutte e due positivi più un mezzo e alla meno 2 per meno 1 che fa 2 quindi al quadrato più 4 e elevato a meno 1 con il meno davanti cioè e alla 1 cioè e tutto moltiplicato per pi greco questo è uguale e alla 0 è 1 e quindi meno un mezzo meno 4 più un mezzo e al quadrato più 4 per e uguale scriviamo la soluzione e abbiamo pi greco che moltiplica un mezzo e al quadrato e 4 e li lasciamo così come sono e dobbiamo sottrarre meno un mezzo e meno 4 otteniamo 2 per 4 8 quindi 8 più 1 e 9 meno 9 mezzi uguale ancora faccio un ulteriore passaggio che non è obbligatorio che non è obbligatorio ma solo per togliere il denominatore dentro la parentesi raccolgo a fattor comune un mezzo e quindi un mezzo pi greco che moltiplica e al quadrato se raccolgo un mezzo devo moltiplicare per 2 il secondo termine che non ha denominatore quindi più 8 e meno 9 questo è il volume richiesto dall'esercizio bene per questo video finiamo qui in basso a destra trovate il tasto per iscrivervi al canale attivate la campanellina in modo da essere aggiornati automaticamente sulla pubblicazione dei prossimi video se il video vi è piaciuto e soprattutto se vi è stato utile mettetemi anche un like e vi ringrazio condividete sui vostri social così che potremo aiutare più persone possibili e anche far crescere il canale perché no in descrizione i miei contatti mail, instagram, facebook grazie un saluto a tutti e alla prossima